Buon pomeriggio dal Tg1, un'edizione straordinaria per aggiornamenti sull'inchiesta sui feriti. Il Presidente Napolitano ha espresso vicinanza alle vittime e si è complimentato per la gestione del Presidente Napolitano. Il Presidente Napolitano ha espresso vicinanza alle vittime e alle vittime e alle vittime. Il Presidente Napolitano ha dato pieni poteri al capo della protezione civile Gabrielli. Martedì il Consiglio dei Ministri dichiarerà lo stato di emergenza. Ci sono delle importanti novità, un video registrato dalle telecamere di sicurezza avrebbe ripreso l'uomo. Sì, lo ricordavi tu, ho individuato un video importante, lo si sta verificando in queste ore. Soprattutto si sta cercando di svelare l'identità, sembrerebbe un italiano, ma su questo gli inquirenti vanno molto cauti. Stanno cercando di risalire e poter arrestare finalmente l'uomo, probabilmente un folle. Quindi se fosse confermata si sgonfierebbe l'ipotesi dell'attentato mafioso o terroristico. E tutto per questa edizione straordinaria del Tg1. Ce ne saranno altre, una ogni ora alle 16, alle 17, alle 18, più l'edizione tradizionale della domenica alle 16.30. Per tenervi informati a domenica in. Buon pomeriggio.